The Football Story 2030 presenta un mito del calcio, Eraldo Pecci, nato a San Giovanni in Marignano, il 12 aprile 1955, è un ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Eraldo Pecci, era un centrocampista dal pensiero e tocco raffinato che ha sempre compensato con la rapidità di intuizione e di esecuzione la lentezza nella corsa. Preferiva far correre il pallone, che distribuiva con passaggi d'esterno e geometrie superiori alla media. Iniziò a giocare a calcio nel Superga 63 di Cattolica prima di passare nelle giovanili del Bologna, squadra con cui debuttò in Serie A nel 1972, con i Rosso-Blu vinse la Coppa Italia nel 1974, segnando l'ultimo e decisivo rigore nella finale contro il Palermo. Affermatosi come centrocampista di regia, nell'estate del 1975 fu acquistato dal Torino. Coni Granata vinse lo Scudetto nel 1975-1976, collezionando 203 presenze, 153 in campionato, 33 in Coppa Italia, e 16 nelle Coppe Europee, e segnando 16 gol, 10 in campionato, 4 nella Coppa Nazionale e 2 in Europa. Nel 1981 lasciò Torino e passò alla Fiorentina. A Firenze Pecci militò per quattro stagioni disputando 138 partite e realizzando 13 gol, nel 1985 venne ceduto al Napoli. Coni Partenopei conquistò un terzo posto in Serie A e realizzò una rete ma, per motivi familiari, decise di ritornare la stagione successiva nella squadra che l'aveva visto nascere calcisticamente, il Bologna. Restò coi felsinei, contribuendo al ritorno in Serie A al termine della stagione 1987-88, fino all'autunno 1989, quando l'allenatore Mayfredi optò per un centrocampo più muscolare. Si trasferì dunque in Serie C1 all'Anerossi Vicenza, allenato dall'amico Romano Fogli, come chioccia per i più giovani, ma dopo l'esonero di quest'ultimo, decise di ritirarsi senza mai aver giocato con i biancorossi a causa di un infortunio. A livello internazionale, esordì il 27 settembre 1975 nella partita valida per le qualificazioni al Campionato d'Europa 1976 contro la Finlandia a Roma, poi nel 1977 fece due presenze con l'Under 21, e infine fu selezionato per il Mondiale in Argentina del 1978, conquistando quella fu la sua ultima avventura in azzurro, alla fine nella sua esperienza in azzurro collezionò sei presenze. Una volta terminata la carriera agonistica, Eraldo Pecci intraprese l'attività di commentatore TV, facendo spesso coppia con Bruno Pizzul nelle telecronache delle gare della Nazionale Maggiore. In seguito è stato editorialista per il quotidiano Il Giorno.